Carichietti forse poteva essere salvata, così dice il Movimento 5 Stelle, avete presentato anche un'interrogazione parlamentare e avete posto l'attenzione in particolare sulla Banca d'Italia. Sì, vogliamo capire cosa hanno fatto e come hanno operato i commissari della Banca d'Italia che in un anno, dal fine 2014 al fine 2015, hanno di fatto azzerato un patrimonio che l'ultimo bilancio disponibile era di 200 milioni di euro e hanno di fatto azzerato delle garanzie che ammontavano a 700 milioni di euro su crediti deteriorati di 320 milioni, quindi più del doppio. Perché tutto questo patrimonio è stato azzerato? Perché tutto questo è stato annullato? Perché ovviamente gli obbligazionisti ci hanno rimesso, perché ricordiamoci sono ancora in attesa di un provvedimento che li tuteli e quantomeno gli rimborsi delle obbligazioni e dei soldi che hanno perso. Si sta facendo fallire l'ultima banca territoriale abruzzese, un sistema che sta scomparendo, all'estero invece ricordiamolo che in paesi come la Germania le banche territoriali sono quelle più tutelate, sono un pilastro del sistema economico tedesco, come quello tedesco, e vengono aiutate allo stesso Stato. E lì hanno situazioni ben peggiori, perché addirittura le banche territoriali tedesche hanno sofferenze per 600 miliardi di euro, quindi una montagna rispetto alla situazione delle banche italiane. Invece in Italia si sta distruggendo un sistema finanziario che era sicuramente in situazione migliore rispetto ad altri sistemi europei.